Valorizzare attraverso il turismo l'immenso patrimonio artistico, archeologico e culturale dell'area dei Campi Flegrei. E' questo l'obiettivo della Fondazione Campi Flegrei che a Villa di Livia ha organizzato una serata per incontrare i suoi associati e per scambiarsi gli auguri di Natale. Nell'occasione gli ospiti hanno potuto assistere a un recital di canzoni e musica nel centenario della nascita di Roberto Murolo con Espedito De Marino, Voce Chitarra e Friends. I Campi Flegrei, sottolineato nel documento fondante del sudalizio per la loro peculiarità storica, archeologica e culturale, rappresentano un sistema territoriale di grande rilevanza e di interesse scientifico, nonché turistico, sia a livello nazionale che internazionale, ad oggi non adeguatamente valorizzato. La Fondazione Campi Flegrei ha come scopo valorizzare e promuovere tale territorio, lo sottolinea ai nostri microfoni il Presidente Salvo Iavarone. Avevamo già iniziato la nostra esperienza e adesso la riproponiamo perché siamo convinti che un soggetto del genere come la Fondazione sia assolutamente indispensabile ad un territorio come questo, come l'area Flegrei, che è bellissimo, ma va valorizzato con modernizzazione, con nuove iniziative e con l'impegno di tutti.